Nel centro storico di Catanzaro i residenti stanno vivendo un vero e proprio disagio. Dal 23 ottobre l'acqua potabile è stata dichiarata non sicura a causa di valori anomali riscontrati nella rete idrica, probabilmente innescati da perdite dovute al recente maltempo. Oggi la situazione si è aggravata ulteriormente a causa di una rottura verificatasi a Piazza Matteotti, vicino all'area già sottoposta a verifiche. Le ispezioni in corso, tuttavia, non hanno ancora fornito risposte chiare. L'ASP di Catanzaro si trova a fare i conti con difficoltà nella diagnosi del problema e la comunicazione ufficiale da parte del Comune ha mostrato finora lacune significative, creando confusione tra i cittadini. Soltanto nelle ultime 48 ore il sindaco Nicola Fiorito ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, esprimendo preoccupazione e riconoscendo la complessità della situazione. Allo stesso tempo la società Sorical, responsabile della gestione idrica, è stata criticata per presunti ritardi negli interventi di manutenzione, aggravando le tensioni. Nel frattempo il Comune ha predisposto la distribuzione gratuita di casse d'acqua potabile per i residenti, che comprensibilmente si sono riversati in massa nei punti di raccolta. Questa situazione ha provocato disagi anche alla viabilità cittadina, già messa alla prova dai rallentamenti e dalle lunghe file ai punti di distribuzione. Grazie. Grazie.